a fronte di questo onorevole cattaneo proprio per una questione di diversificazione e parliamo intanto prendiamone uno alla volta per esempio ho letto e sinceramente nonostante la sua capacità di inquinamento io sono molto speranzoso perché dobbiamo fare un investimento per il nostro futuro non tanto riapertura delle centrali a carbone ma un aumento di utilizzo di queste perché al momento non vengono utilizzate nella loro competenza e capacità di produttiva di energia le tempistiche e anche per riuscire a ottenere l'efficientamento completo delle centrali a carbone e anche la loro capacità di sostituire il gas cioè se noi le abbiamo tutte a massima potenza possiamo quasi chiude il rubinetto sì no allora centrali a carbone sapete qual è il governo che le ha accese più di tutto il governo tedesco che per la prima volta vedeva i verdi al governo e perfino i verdi che sono quindi come dire l'anima più ambientalista d'europa che per la prima volta si misurano con la complessità del governare cosa hanno fatto una riapertura centrali a carbone se l'hanno fatto loro vuol dire che non c'è altra scelta in questo momento perché c'è bisogno comunque di sostentare le nostre energie le nostre famiglie sostituendo il gas per la crisi che c'è allora è ovvio che questa è un'emergenza anche in italia lo possiamo fare sicuramente sì lo stiamo anche facendo di centrali a carbone ne sono rimaste poche perché giustamente si stavano via via sostituendo ma ne abbiamo alcune di molto moderne andate a digitare su google si chiama torre valdalega nord centrale di civita vecchia 1600 megawatt è la centrale a carbone più moderna d'europa tra le più moderne del mondo ha risolto tutti i problemi degli inquinanti a neox s2 rimane il problema della co2 questo senz'altro ma è molto lontana dall'immagine delle centrali a carbone tutto nero fumo e particolato sono centrali moderne fatte con i più avanzati modelli di pulizia dei fumi hanno risolto tanti problemi non tutti è giusto riaccenderle in questo periodo di emergenza quanto coprono noi con diciamo la riaccensione delle nostre centrali a carbone arriviamo a diciamo a coprire un 5 6 7 per cento in è poco certo è poco ma è sicuramente una delle risposte che sommata alle altre danno una risposta consistente quindi credo già il governo lo ha fatto onestamente queste queste centrali oggi sono accese devono rimanere accese in questo momento di emergenza poi diciamo andranno dismesse il carbone la consideriamo tutti un'energia del passato ma oggi non si può fare altrimenti quindi si recupera una percentuale medio piccola quindi un 5 per cento in più purtroppo è già meglio di niente benissimo un'energia e un'energia